Ciao ragazzi, oggi gameplay all'acqua... Sei morto? Si lo so Non dici si lo so Allora, adesso esce Questa è la foto più bella di tutte comunque Qui si sbrissia Anche questa, bella foto 10 su 100 A fare in modo Nooo Se ne andate Ok 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 Bella ragazzi Grazie 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 Grazie